Salve a tutti ragazzi, oggi super super struncata e con queste fantastiche sopraccigli stembiate al naturale vi cercherò di rilassare con due cettini, il primo è un siero che sto usando ultimamente, molto molto valido e poi con lo zainetto che ho comprato da Primark in questo video parlerò il meno possibile perché vi farò concentrare sui suoni, inizio subito il siero in questione è questo di Nacomi, di acinamide al 15% e acido ialluronico inizio subito ma anche laria, anche il beauty ma anche il migliori Grazie a tutti. Allora sono 30 ml, eccolo qua. Applicare una piccola quantità mattina e sera sulla pelle pulita del viso, collo e scollatura. Massaggiare delicatamente e lasciare fino a completo assorbimento. Usare prima delle applicazioni del crema o olio. Non lo usare con altri contenenti, contenenti vitamina C. Evitare il contatto con gli occhi e tenere lontano dalla portata dei bambini. Esclusivamente per l'uso esterno. L'odore specifico del prodotto è stato da elevate concentrazioni di principi attivi continui nel prodotto. Tutto sono fenomeni normali e non procediscono l'efficato del prodotto. Allora... Eye pump... Allora... 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 Sì con tutti questi Grazie a tutti. 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 Quando si ero, quando l'ho preso io c'era il trefetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.